Zaffarano si occupa di una cosa che è di grande importanza, anche se da noi ancora poco è il rientro nel mondo del lavoro di persone che hanno superato, un'altra mi diceva over 50, adesso ho fatto over 40, perché questa è veramente, della difficoltà che persone che hanno superato 40 anni, 50 anni, non possano rientrare o rimanere nel mondo del lavoro, è veramente una dispersione di energie e di ricchezza che il nostro paese non dovrebbe potersi permettere e che invece si permette. Perché noi abbiamo un tasso di, diciamo la fascia dei nostri lavoratori è ancora troppo bassa, si può benissimo lavorare e soprattutto in ogni caso si deve poter rientrare anche quando c'è un'esperienza già maturata. Ovviamente le condizioni vanno viste, perché chi ha già raggiunto l'età della pensione, insomma ci sono differenze, però questo è un tema grande, nel senso che dobbiamo fare, credo che questa sia la sfida anche che il governo ha davanti, dobbiamo essere così capaci di non penalizzare l'ingresso nel mondo del lavoro delle nuove leve, perché questo è un problema a sua volta, anche se le nuove leve sono scarse proprio per la natalità che dicevo prima, ma senza perdere i quarantenni o cinquantenni che sono un'esperienza consolidata. Cioè una società che mette fuori dal sistema produttivo dei tecnici perché sono diventati obsoleti delle loro competenze, sono diventati obsoleti nel giro di 20 anni di lavoro, di 25 anni di lavoro, probabilmente una società che disperde delle energie. Noi su questo, parlando della fase del lavoro, stiamo lavorando molto perché il sistema nostro di istruzione e formazione professionale ha gli strumenti anche per lavorare qui, perché è chiaro che la rapidità dell'evoluzione tecnologica fa sì che una competenza che in alcuni campi, non dappertutto, che certe competenze diventano vecchie molto rapidamente. Allora bisogna rinnovarsi, bisogna rilanciare, quindi questo aspetto noi lo stiamo seguendo con le nostre strutture di formazione. L'altro tema invece che ha posto quello specifico della domanda di Zaffarano, secondo me è un tema su cui tutti noi dobbiamo riflettere, cioè non è che di fronte a questa cosa dice che fa la Regione, no, tu dimmi cosa hai in mente di far tu, che poi vediamo se possiamo darti una mano, perché questa, non lo dico a te Zaffano, lo dico come principio, per questa è la politica che abbiamo fatto come Regione in questi anni, cioè quella di valorizzare quello che nasce dal basso, perché tra l'altro quello che nasce dal basso è mille volte più intelligente di quello che si può costruire a tavolino, perché chi è dentro la situazione si accorge di un problema meglio di chi guarda dall'alto. Io per esempio nel mio settore ho rapporti con tantissime associazioni, prendete il mondo dei disabili, ci sono un sacco di certe malattie particolari, la SLA, queste cose, lì ci sono associazioni che nessuno, non è che le ha costruite la Regione, la provincia, il comune, sono nate magari da una famiglia che aveva un bambino disabile, e allora ho detto, beh com'è che faccio qui, e si è organizzata, e poi ne ha trovato un altro, e così nascono le associazioni, nascono i gruppi, cioè noi non siamo in Cina, che se fossero andati in Cina le associazioni in Cina le fa lo Stato, in Cina va a rovescio, cioè siccome lì il potere è tutto nello Stato, allora lo Stato fa l'associazione dei disabili, e lì ci sono i disabili, da noi nasce dal di sotto, e quindi per esempio anche sul cosiddetto invecchiamento attivo qui si aspettano notizie, io posso dire quella che mi sembra una pista di lavoro, e che è questa, cioè qual è il bello, la ricchezza di un anziano, di una persona anziana, sana, che eccetera, cioè è l'esperienza, è la competenza che ha acquisito nella sua vita, che non è solo competenza di libri o competenza di studi, è proprio competenza di pratica, di saggezza della vita, perché le cose si imparano con l'esperienza, non è che si imparano sui libri, si imparano provando, poi si imparano sbagliando, ci si corregge, eccetera. Allora questa ricchezza che è quel che fa il tessuto sociale, oggi potrebbe essere messa al servizio, lo lancio io come proposta, al servizio dei percorsi di integrazione, perché questo è un altro tema, non ne abbiamo parlato stasera, ma assieme alla denatalità e all'invecchiamento, il terzo tema è l'integrazione degli stranieri, quelli che vogliono integrarsi ovviamente, che stanno al gioco, che rispettano le regole, che vogliono vivere qui da noi, e questo è un problema serio, ne abbiamo un milione di stranieri in Lombardia, quindi sono circa il 10% della popolazione, crescono, molti di queste persone si sono già stabiliti con la famiglia, hanno i figli, avete visto l'altra sera in Nazionale, hanno giocato tre ragazzi neri, tutti e tre nati in Italia, ho visto il filmato, cantava l'inno di Mammeli meglio di quelli italiani, i bianchi, meglio dei bianchi, non degli italiani, perché sono tutti italiani, quindi questa è una realtà che abbiamo davanti, possiamo chiudere gli occhi, dire va bene, ma non mi interessa se ne occupi qualcun altro, ma è la realtà che abbiamo davanti. Allora, costruire nei paesi, nei luoghi, delle comunità, ricordate i circoli, quelli più anziani si ricordano la funzione dei circoli, circolo operaio piuttosto che il circolo della parrocchia, dove si andava a giocare a carte, a giocare a biliardo, di solito c'era a biliardo, a contarla su e a stare assieme e intanto si socializzava, no? Una volta quando esisteva ancora la politica, non come adesso che la politica è ridotta un po' all'omicino, in questi posti si parlava anche di politica, ci si preoccupava dei problemi del paese. Ecco, perché non provare a far qualcosa in questo campo? Io me lo sono chiesto tante volte, perché quando si vede in giro le famiglie straniere pian piano si organizzano da sole, ma soprattutto quando sono giovani o persone sole che non sanno dove andare quando arriva la sera, sabato, domenica e quindi diventano anche poi dei problemi o anche dei potenziali, non dico pericoli, ma comunque luoghi di diffidenza nei confronti delle persone, ecco, perché non provare a creare dei luoghi in cui questa integrazione, questo parlarsi assieme possa avvenire. Per esempio, questa è una sfida in cui la persona anziana, quindi la persona che è capace di vedere il bene e il male meglio che un ragazzo giovane, potrebbe giocare una partita interessante, lo dico come una delle cose, poi tante attività sono già in corso da quei anziani che curano i bambini fuori dalle scuole, fanno i piedi, busso, fanno queste cose, insomma ci sono tante iniziative che consentono molto liberamente di giocarsela, poi se uno invece preferisce finalmente sedersi a leggere qualche libro che non ha potuto fare tutta la vita, non gli faremo certamente una colpa per questo, che poi uno aspetta di arrivare a quel momento lì, poi gli cade giù, l'ha visto, non riesce a leggere, insomma, allora lasciamoci vivere bene per quanto possibile, però questa, sapete c'è un poeta africano che dice che quando muore un anziano è come una biblioteca che si incendia, come l'incendio di una biblioteca, perché quello che si perde lì non ce l'hai più, non ce l'hai più, quindi finché c'è usiamolo, usiamolo nel rapporto. Riprendendo lo spunto siamo partiti dalla famiglia, io guardate, ho messo questo slogan nel mio cartello che la nostra Lombardia è forte, perché sono convinto che la nostra Lombardia, cioè noi, i nostri paesi, la nostra gente, siamo veramente gente capace di rispondere ai bisogni che ci si presentano davanti con intelligenza, con generosità, con dedizione. Ecco, questa è una dote che abbiamo ereditato dalla nostra gente, i nostri padri, è una dote che non dobbiamo perdere, non dobbiamo perdere e quindi faccio l'augurio che si possa trasmettere sempre di più anche a nuove, ricche e feconde generazioni, perché c'è bisogno anche di tanti bambini. Grazie.